Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Honda TG, eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma o con il proverbio a chi non piace il termine aforisma. Innanzitutto oggi voglio fare gli auguri di buon compleanno al mio amico, nonché amico di Honda TV, il professor Franco D'Amico che oggi compie 70 anni, persona molto vicina a questa emittente e nonché persona che abbiamo citato qualche settimana fa essendo il promotore di quel comitato che ha lottato per otto anni e ha riportato i geometri ragionieri, gli studenti di geometri ragionieri qui in Sulmona, quindi qualcuno che ha fatto qualcosa per questa città. Auguri franco, buon compleanno. Veniamo all'argomento del giorno, in questi giorni si parlando tantissimo c'è una notizia che tiene banco, anzi consentitemi, che tiene bancarella perché si sta parlando tantissimo del venditore ambulante di Castagne che staziona sotto all'acquedotto medievale in piazza Caribaldi e improvvisamente questo venditore di Castagne non può più stare lì. Chi lo ha deciso? Lo ha deciso una legge regionale che è un insieme della legge regionale, di un decreto legislativo, di regolamenti, tutto ciò che riguarda la nostra burocrazia, tutto ciò che riguarda il nostro sistema di legge e regolamenti, una legge regionale che doveva essere una legge, si chiama testo unico in materia di commercio, che doveva essere una legge di semplificazione delle procedure commerciali. Quindi se uno va a vedere questa legge qua, che è una legge portata di tutti, sta su internet, non è niente di segreto, ai primissimi articoli dice che lo scopo di quella legge è proprio quella di semplificare il sistema commerciale in Abruzzo ed è quello di salvaguardare determinate attività, garantire a tutti i venditori il diritto di vendere i propri prodotti, insomma tutte delle belle premesse. Sta legge parla, 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 dice che si applica per questo, per quello, per quello, per quello, per quello, però non ha tenuto minimamente conto degli ambulanti, anzi di quei piccoli ambulanti, tipo appunto il venditore di castagni, tipo quello che vende, perché in altri paesi d'Abruzzo ci sta quello che vende la mazzoc o la marroc, come si chiama in altri paesi, arrostite, cioè le pannocchie fatte alla brace, c'è qualcuno che fa la bruschetta, c'è qualcuno che fa gli arrosticini, perché in ogni paese ci sta un qualcuno che fa qualche cosa di tipico, di locale, e questa legge fatta dai cervelloni pagati a 10.000 euro al mese e anche più, sono cifre che stanno scritte su internet, sono cifre che stanno sulla amministrazione trasparente, su internet non mi sto inventando nulla, non sono cifre che stanno per inventare a me, chiunque può andare su internet, stipendi dei consiglieri regionali, stipendi degli assessori regionali, del presidente e di tutti i capi, di tutte le commissioni consigliarie che stanno là e vedete quanto prendono quei signori in giacca e cravatta con l'orologio d'oro a stare lì a fare le leggi. Fatta sta che questa legge regionale che ha regolamentato il commercio in Abruzzo, l'Abruzzo già 306 comuni, il più piccolo, c'è 140 abitanti, pietra ferrazzana in provincia di Chiedi, per chi non lo sapesse, ci sono dei comuni talmente piccoli e sconosciuti, dove ci stanno 4 gli atti, veramente 4 gli atti ci stanno, però chi ha fatto questa legge ha ben ritenuto di mettersi là, che poi ho visto chi è che la fatti, perché basta andare a vedere legge regionale numero 23 del 31 luglio 18 e c'è scritto che è stata approvata da e c'è il verbale di approvazione. Fra tutti coloro che hanno votato questa legge, fra quello che ha fatto gli emendamenti, fra quello che ha dato lo parere, quello che l'ha formato, quello che ha detto di C, quello che ha detto di no, non mi sembra di aver letto il nome di nessuna ambulante che vende le castagne o che vende i fiori, o che vende le mazzocche, o che vende la frutta, o che c'è il piccolo banchetto che vende l'aglio rosso di Sumona, o che vende i paparuali di Cern, o che vende le geraci di Ryan, non mi sembra di aver visto nessuno che esercita questo piccolo commercio, ma mi sembra di aver letto tra le figure di questa legge, perché poi il bello di questa legge, che deve essere una legge di semplificazione, ma per interpretarlo ci vuole un scienziato ci vuole veramente un giurista che secondo me insegna diritto all'università a Rom, è una legge dove dice che sono previste tante figure, tutti i consiglieri, è una legge dove alla Regione ci sta addirittura un comitato, ci sta un osservatorio regionale, un osservatorio regionale presso il Dipartimento della Giunta regionale, dove ci stanno i membri effettivi, i membri supplenti, e che sono questi membri effettivi e i membri supplenti? rappresentanti dei grossi centri commerciali, rappresentanti dell'industria, rappresentanti della Camera di Commercio, ci fosse uno che rappresenta i ambulanti, ci fosse uno che rappresenta i poveri Cristi, mezzo a tutti questi signori che rappresentano il potere economico della Regione, ci fosse uno che rappresenta la bancarella. E vi posso garantire, cari signori, che grazie al mio lavoro che ho fatto fino a poco tempo fa, io ero un maresciallo dei NAS e il NAS dei Carabinieri ha competenza sull'intera regione, quindi nei miei vent'anni a Pescara io ho girato tutti i 306 comuni d'Abruzzo, tutti, tutti, in alcuni ci sono andato spesso, in alcuni poche volte, ma almeno una volta ci sono andato in tutto il 306 e sapete una cosa? Ho trovato in ogni paesino, anche in quello più piccolo, più sperduto, dietro a Maiello, in giro di Monte della Laga, Re dell'Ukransas, sport tutti i miei servalloni, ho trovato l'ambulante che stava lì con l'ape, quindi con il carrozzino, con il furgoncino, con la bancarella, in ogni paese ci stava quello che stava vendendo qualche cosa, che era una figura giornaliera, settimanale, quelle che vendevano le causette, e quelle che vendevano le scarpe, e quelle che vendevano la frutta, e quelle che vendevano i formaggi e salumi, e quelle che vendevano la porchetta, e quelle che vendevano qualunque tipo di cose. Ho trovato gli ambulanti in ogni paese, ed erano e sono l'immagine caratteristica dei vari paesi, perché l'Abruzzo è fatta di tradizioni, fatto. Quando parliamo di tradizioni che dobbiamo tutelare, mantenere, diciamo tante cose, il turismo, la tradizione, il folklore, poi dopo si fa una legge che va a bastonare i piccoli. È proprio il vero, se dice Assumona, e questo è proprio il caso di dirlo, che che sta Satul, quello che sta Satul, non crede a quello che sta Diù. Tradotto, colui che è sazio non crede a colui che sta Diù. E mi riferisco a quelle persone che hanno fatto questa legge, perché chi ha fatto questa legge, che secondo me viveva solo di teoria, oppure, ripeto, stipendiacci ben pagati a 10.000 euro al mese, più le indennità, perché poi che sta a certi livelli, c'è tutte le indennità possibili, immaginabili, fra cui le trasferte, fra cui le indennità di queste, indennità, solo perché dice, oh, l'indennità. Se faccio buongiorno, l'indennità, rispondo a lei, l'indennità. Allora, chi fa queste leggi, che quindi non vive la realtà dell'ambulante che va in giro alle tre di notte, che va al mercato, che sta sotto la pioggia là, e quando non basta nessuno la roba che c'ha la butter, perché gli si guasta, specialmente chi vende prodotti alimentari, oppure gli si rovina, oppure quello che vende i fiori, gli fiori, si ammussisce i ghiette. No, chi fa le leggi in teoria? Tutte queste persone, ripeto, con l'orologio d'oro, con Jack Crabat, Romagnone, l'autista, non si rendono conto, perché stando loro sazi, satolli, non si rendono conto di chi sta a digiuno, cioè di chi la pagnotta, la dà, guatagna, deviene insipire 10.000 euro al mese, ma a malapena arriva a 6-700 euro al mese e paga le tasse, e paga questo, e paga quello, e paga quell'altro. Allora, cari signori, quando fate queste leggi, visto che per fare queste leggi muovete un meccanismo, perché si fa vedere questa legge all'inizio, il bello, che dice che questo, il Consiglio regionale, questo lo dice all'articolo 1, visto la relazione della terza commissione consigliare, udite gli interventi di quello, visto l'eccezione di quell'altro, visto il rappresentante di questo, ha approvato la presente legge. Ma ripetisco, in mezzo a tutti coloro che hanno partecipato, all'essenzione di questa legge, ma come di tante altre leggi, adesso parlate di questa, perché ho preso spunto da questo povero signore che vende le castagne. Chi fa queste leggi? Le fa con la saccoccia piena, con la trippa piena, e che cosa va a fare alla fine? Va a danneggiare i poveracci. Questo succede spessissimo, cari signori. Certe leggi sono come le ragnatele, dove le mosche piccole rimangono impigliate, poi arrivano i azzuno, arrivano i calabruno, arrivano i moscuno rossa e sfondano la ragnatele. Cosa voglio dire? Che arriva il grosso centro commerciale, arriva il grande commerciale, la ditta, l'industria, l'impresa grande, e c'ha tutte le attenuanti, le tereo che è possibile. Arriva il poveraccio, con la pancarella, con il rutello che sgompi, e io l'abbastonata. E siccome io sono sempre dalla parte dei deboli, e l'ho sempre fatto e sarò sempre dalla parte dei deboli, ma prendendo spunto da questa storia del venditore di castagni, che tra parentesi, sto parlando del venditore di castagni perché è successo a lui, poteva succedere a un qualunque altro ambulante che vendeva qualunque altro prodotto. Quindi, che sia ben chiaro, io non sia più la difesa di quella persona. Sto prendendo le difese di una categoria. Dico questo, che queste persone, innanzitutto mi auguro che qualcuno, qualche amministratore pubblico, a Sto dando pure lo spunto, non vi dovete neanche sforzare di andare a vedere dove dovete correggere. L'ho fatto io il lavoro per voi. Io, gratuitamente, mi ho agevolato, sono fatto l'avvocato del popolo, ho fatto l'avvocato del popolo. All'articolo 7, dove dice, ambito di esclusione, che il presente testo unico non si applica a farmaci, monopoli, imprenditori agricoli, stabilimenti baleari, alle industrie, pescatori, cacciatori, le opere d'arte, a cristo, a quell'altro, inserite, non si applica manco ai venditori inserite anche qualche, queste attività temporane. Le castagne si vendono 20 giorni all'anno, non si vendono l'antiner, mo' si vendono le castagne, mo', pochi giorni mo', come a quelli che vendono i fiori per tutti i morti, una settimana si vendono i fiori, mo' finisci, le castagne si vendono mo', e il venditore di castagne fa parte della tradizione, è anche un punto di riferimento, ma è anche la gioia perché le passi che ne vanno a casa, che porti i cittadini, che porti i bambini, oh mamma, mamma c'ho fame, c'ho fame, aspetta dai, ti compro due castagne, un cittadino, se manchi due castagne intanto spezza quello appetito, le va a casa tranquilla e mette qualche cosa di caldo nello stomaco, venditore di castagne, un profume, poi il regolamento comunale sul mondo dice che l'ambulante si deve spostare ogni ora di almeno 350 metri, ma io vi voglio bene a tutti quanti, perché io non ce l'ho con i controllori, io stimo tantissimo i controllori perché io il controllore l'ho fatto per 31 anni, però c'è sempre il buon senso che è una regola non scritta ma che vale sempre, lo venditore di castagne tecnicamente non è come quello che vende la frutta che mette molto il furgone e si sposta, lo venditore di castagne ha il braciere con la braccia accesa cioè, tecnicamente, la volta che ha appicciato e che ha messo fuoco, quello è bollente come fa a spegnerlo dopo un'ora, a aspettare che si raffredda e a spostarsi i 350 metri e a rappicciare tutto e non se ne è di la serata una volta che spegne e va a rappicciare l'altra parte se ne è di la serata cioè quello deve stare lì, ci vuole per forza una deroga e fare una deroga, basta semplicemente aggiungere un nome all'elenco dell'articolo 7 all'elenco di categorie escluse, che ci sono un elenco cuce lunghe basta aggiungere, escluse anche i venditore di castagne, venditore di mazzocco cioè mettiamoci queste attività che campano di quello perché sono attività temporanee, 24 all'anno no, non è un commercio fisso per tutto l'anno capite voi che fate le leggi fatele però gli interessi anche dei poveracci fate gli interessi di chi cavolo vi pare invece di fare solamente gli interessi di dare i famosi 6 milioni di euro al Napoli e lo dico sempre che si viene ad allenare a Castel di San con la spese nostre invece di fare gli interessi di chi si affitta i pascoli qui in Abruzza che avete affettato tutta la montagna di Abruzza agli stranieri e anche là nessuno indaga invece di fare solamente gli interessi per i grossi facete pure l'interesse per i buracci per i piccoli, per i castagnari per questo che vengono i castagni per quello che è per un piccolo ambulante aiutate anche il piccolo non facciamo come si dice aiutemolo Rick Calu Powers Arrange invertite la tendenza signori se volete avere la stima mia e di tutti quelli che io rappresento salve e buonasera e riflettereci buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti